Buongiorno, salve seranotte a tutti ragazzi, sono LionBite Siamo su Clash ragazzi, finalmente siamo tornati Su questo nuovo episodio Come vedete ho migliorato il municipio Alcuni mi hanno detto di migliorare le cose delle risiere, l'ho fatto E... ok Iniziamo immediatamente Con un attacco Adesso tutte le truppe, vediamo Non mi ricordo più quelle sono, si ok Vorrebbero andare bene Andiamo, ok ragazzi, penso che questo Vado bene Attacco, metto qua Qui E attacchiamo così Poi di qua Attacchiamo tutti proprio in massa Qua Allora Adesso dovrebbero pulire tutti No Bravo, bravo mortaio Mira Vai di prepotenza proprio E va Abbiamo preso Come il po' di oro della prossima La prossima cosa Sì lo so ragazzi abbiamo perso però Mi servivano un attimo loro Perfetto Vi chiediamo anche la ricompensa Ok Faccio le truppe e ci vediamo dopo Ok raga Sono tornato Andiamo a cercare qualche attacco Adesso abbiamo l'oro da spendere Per cercare l'attacco Non penso che spenderemo tanto Perché già l'ho trovato Questo è veramente tanto Dovrò attaccare Dovrò attacchi qua No per prima cosa Spaccate Vai Ok Sto attaccando tutti Via 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 Così Via così Elisir siamo a buon punto Va bene Ricordo ragazzi A me non fregano i trofei Per adesso Mi fregano più quando Ho potenziato quasi tutto al massimo Adesso mi frega tanto Elisir e risorse Mi fregano Quindi Certo Se riusciamo a Fare Almeno una stella Va bene Però non credo Infatti Non abbiamo fatto niente Vabbè Qua c'era qualcuno No niente Torniamo Dovremmo essere a No siamo sempre così Bene Così Posso fare così Gemmo altre truppe E ci vediamo dopo Tra l'altro ragazzi Se ci avete fatto caso Gli archi al 2 E E anche i barbari al 2 Adesso Punterò i goblin Poi faccio Il laboratorio al 2 E mi faccio prima I giganti E poi Spaccamulo Ok allora Riprendo solo per farvi vedere Quanta cavolo Tutto cavolo di oro ha questo Io se potevo lo attaccavo ragazzi Però Le truppe non mi reggono niente Purtroppo Stacco e ci vediamo dopo quando trovo qualcosa Che quel dopo è adesso Ok io attaccherei subito così In massa Poi per fare percentuale Attacco da qua E poi vabbè tutto il resto qui Perfetto Per vedere si distruggono un pochetto Questo Andate sul mortaio Correte Credo che la percentuale sotto L'abbiamo fatta Questo è già morto Bravo Dai distruggi Distruggete Distruggete tutto Vai sull'elisir Vai sull'elisir Che a me serve solo quello Tanto una stella l'abbiamo già fatta Non mi serve Non attaccare questa Non ho truppe Serve l'elisir Intanto ragazzi vi dico questa cosa Scusate se non faccio più video di minecraft Sto aspettando Ormai mi sono fissato un pochetto con clash Faccio un po' di video con clash E poi Quando posso ne faccio uno con minecraft Questo video Non so quando uscirà Vabbè Non fa niente Basta che esce per voi Vero Tanto adesso ragazzi Appena possibile Ci facciamo subito Come vi stavo dicendo I goblin E penso Che prima o poi li farò Cioè Quel prima o poi sarà Adesso Perché abbiamo superato I 50 Mila di l'isir E penso che 100% No Non so però se non si sbrigano Sì sì 100% Per chi Vabbè Perfetto Sì grazie Non voglio Bene ragazzi Tra 12 ore Avremo i goblin al 2 Intanto ragazzi Andiamo a visitare Dexo Ok Tanto ragazzi Mi invito a entrare nel suo clan Si chiama Dexo clan Vi esitiamo Si sta messo bene E di me sono forti Eh Il municipio è il municipio mio No io sono il municipio 4 Ah si al 4 Vabbè Credo Si Fatto tutto Ok ragazzi Questo video sta per terminare Iscrivetevi al canale di Imedexo E di Noxus Gaming Che sarebbe il nuovo canale Di Tredax Ragazzi 15 mi piace per Un prossimo video Commentate Iscrivetevi E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Ciao